Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo bellissimo video, non mi si vede oggi perché sono piccola in confronto a questa enorme scatola che a breve dobbiamo aprire ovvero oggi parliamo di robot aspirapolvere, pulisce, lava, fa tutto, è letteralmente il tuo alleato di tutti i giorni noi se vi ricordate molto bene avevamo già provato il fratellino minore del Roborock in questo caso adesso vedremo se il Curevo Pro ovvero questo qui porta qualcosa di aggiuntivo, qualcosa in più, qualcosa che proprio mi fa dire è lui, basta devo prendere soltanto lui beh allora esteticamente non ha diciamo nulla di diverso ripeto rispetto al fratello minore però questa è soltanto la prima impressione perché in realtà a livello puramente tecnico il Curevo Pro in realtà ha delle funzionalità totalmente diverse che ripeto lo rendono molto molto più figo infatti la prima differenza la vediamo proprio nella parte inferiore ovviamente adesso dovremmo andare a installare il tutto però qui in realtà c'è un braccio estendibile che è una cosa molto molto importante soprattutto per chi come me è fissato con la pulizia ovvero il fatto che i robot essenzialmente non riescono ad andare nelle zone più specifiche soprattutto dove ci sono gli angoli invece con questo braccio noi riusciremo a togliere lo sporco anche proprio da queste zone che sono veramente molto molto scomode riuscendo così a togliere tutto lo sporco che c'è possibile immaginabile e questa è una cosa effettivamente che finora non si era mai vista nota molto molto apprezzata dalla sottoscritta visto che noi abbiamo sia un cane che un gatto la spazzola questa qui che è tipo di gomma quindi in questo caso i peli i capelli si spezzano che è una meraviglia e la cosa interessante è il fatto che quando noi andiamo a utilizzare il robot spiapolvere nella versione diciamo lavante nella modalità lavante questo cilindro in pratica viene sollevato così appunto da non creare nessun tipo di interferenza ripeto durante la fase di lavaggio insomma ragazzi c'è veramente tanto da dire su questo Curevo Pro ma direi che è arrivato il momento di metterlo letteralmente a lavorare perché alla fine è qui per questo quindi è il momento di pulire casa e vediamo adesso passo per passo tutte le varie migliorie ok la prima cosa da fare è ovviamente connettere il robot all'applicazione si chiama Roborock e la trovate sia per iOS che per Android ovviamente il procedimento è estremamente semplice esattamente come il fratello minore quindi lo andiamo ad accendere e poi se aprite questo scompartimento trovate un QR code che adesso andiamo a utilizzare nell'app quindi facciamo più e da qui andiamo a inquadrare il QR code una volta inquadrato ci dice infatti di premere contemporaneamente i due tasti posti qui sopra per tre secondi finché non si sente un suono dedicato questo era il suono ora andiamo a selezionare la rete wifi ovviamente che abbiamo in casa impostiamo la password e tutto necessario e andiamo avanti ora avverrà la connessione tra il dispositivo qui dallo smartphone e questo robot e da lì in poi saremo pronti per fargli fare la mappatura della casa e tutto il resto ora possiamo tranquillamente andarlo a posizionare nella sua base quella che avete visto prima e da lì farlo lavorare come si deve insomma è un po' il nostro schiavetto da un certo punto di vista la mappatura è veramente una delle cose più rapide che abbiamo riscontrato su questo prodotto lo vedete anche ovviamente dal video quello che farà sarà riconoscere tutte le stanze in maniera molto rapida all'interno della casa e vi permetterà anche di verificare eventuali ostacoli che saranno ostacoli permanenti oppure no in caso che non fossero ostacoli permanenti ovviamente potrete rimuoverli e di conseguenza il robot non li considera come ostacoli fissi e permanenti di conseguenza passerà a pulire anche in quelle zone per quanto riguarda gli ostacoli è importante anche dire un'altra cosa se avete delle sedie in mezzo o qualsiasi altra cosa non toglietele lasciatele pure al loro posto perché ovviamente il robot si deve abituare a una situazione reale difficilmente magari vi ricorderete sempre di tirare sulle sedie sul tavolo oppure di far sparire alcune cose di conseguenza fate sì che lui faccia il suo lavoro come fareste voi con l'aspirapolvere né più né meno quando sarà finito il tutto la mappatura sarà salvata potrete anche andare a definire le singole aree dando un nome quindi cucina, camera da letto, bagno e così via potrete anche definire dei limiti ad esempio se sapete benissimo che il robot sotto certi punti non può passare oppure non volete farlo passare ad esempio come noi nel caso delle ciotole e dei nostri animali preferiamo che magari il robot non ci passi sopra possiamo delimitare quell'area e evitare che il robot ci passi e funziona molto bene in questo punto di vista lo potete fare tranquillamente tramite l'app semplicemente con un tocco veramente una cosa che può fare chiunque la cosa bella di poter delimitare le aree e dare nome alle stanze è il fatto che possiamo anche creare pulizie personalizzate quindi dire al robot magari il lunedì di pulire soltanto la cucina come il martedì di pulire la camera da letto insomma possiamo fare tutte queste cose rispetto alle nostre esigenze e alle nostre abitudini ora che abbiamo fatto tutta la mappatura iniziamo a pulire per prima cosa quindi dobbiamo riempire lo scompartimento di acqua pulita qui potremmo anche andare a mettere dei saponi ma mi raccomando non devono assolutamente poter far schiuma è fondamentale un po' come tutti gli strumenti per pulire a terra automatizzati il robot automaticamente prenderà l'acqua necessaria da questa cisterna e riempirà una cisterna al suo interno che utilizzerà ovviamente per pulire quando sarà sporca e quindi sarà lui a reputare questo un problema tornerà alla base e la suoterà per prendere altra acqua pulita vi faccio vedere è molto semplice basta aprire qui e basta riempire perfetto chiudiamola per bene e ora andiamo a metterla sulla base e poi come detto andiamo a metterlo qui sulla base come vedete si accende la lucina e questo invece sarà lo scompartimento con l'acqua sporca che andremo a svuotare quando sarà pieno ora che abbiamo praticamente riempito il nostro serbatoio possiamo avviare la pulizia e abbiamo tre diciamo possibilità di questa ovvero una temporanea nel momento in cui magari stiamo cucinando ci cade qualcosa a terra abbiamo ospiti in casa dobbiamo pulire velocissimamente possiamo appunto utilizzare questo tipo di appunto pulizia la seconda è la pulizia diciamo rapida quindi che aumenta del 35% la classica routine di pulizia mentre invece la terza è la classica pulizia standard quindi in pratica va a pulirvi tutta la casa oppure delle stanze che voi avete deciso che il robot vi deve andare a pulire nello specifico la parte ovviamente più divertente di questi robot è metterli alla prova e direi di partire con una semplice macchia di sugo perché in pratica è la cosa che abbiamo sempre nelle nostre cucine soprattutto noi italiani e quindi che si fa? si sporca perché raga il sugo soprattutto quando si cuoce schizza ovunque soprattutto a terra e qual è la cosa diciamo intelligente di questo robot che ovviamente se lui non si riterrà soddisfatto andrà a ripassare sulla stessa zona finché la macchia non sarà totalmente sparita come avete visto l'abbiamo messo esageratamente alla prova abbiamo messo una quintalata di passata a terra cosa che probabilmente neanche con lo straccio mai puliremo probabilmente prima passeremo una pezza insomma quindi devo dire che ha fatto un lavoro pazzesco con due passate perché bisogna dire con due passate ha pulito benissimo e questa è la resa insomma della pulizia dei mop quindi come vedete pulito praticamente asciutto ci sono un po' di residui sui lati ma semplicemente perché veramente tanto sugo cosa non normale quindi per noi veramente ha fatto un lavoro impressionante non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere il suo fratello minore non avrebbe fatto questo una miglioria sicuramente apportata rispetto ai precedenti modelli di questo tipo di prodotto è il fatto che in questo caso non solo c'è un miglior riconoscimento degli ostacoli ma soprattutto degli specchi infatti capitava molto spesso che il robot non riconosceva se stesso nello specchio come magari capita nei cuccioli di canne si può dire questa cosa si può dire a regia ok grazie e quindi sì non si schianta più ecco ha capito che si tratta di lui stesso non si deve spaventare non deve chiamare mamma e papà per dire oh mamma c'è un intruso in casa perché appunto è lui stesso quindi appunto come detto offre delle ottime prestazioni e riesce a trovare in autonomia delle ottime soluzioni per pulire al meglio la nostra casa come già detto e ribadito ogni volta che il robot penserà di avere l'acqua sporca o di essere pieno insomma che ha bisogno di tornare alla base lo farà e svuoterà tutto il necessario ora però vi voglio spiegare bene qual è la differenza anche con i predecessori perché le modifiche che sono state effettuate dal nostro punto di vista sono molto importanti svuoterà sicuramente quelle che sono le polveri o comunque quello che avrà aspirato svuoterà anche lo scompartimento dell'acqua sporca sostituendolo con quella pulita ma l'aggiunta che vi dicevo prima è importante proprio per quanto riguarda le spazzole ovvero quelle che vi faccio vedere ora queste infatti sono state un po' le colpevoli sempre di cattivi odori o comunque di poca igiene perché si andavano a sporcare e poi dovevano pulirle manualmente o comunque con acqua fredda ora quello che succede è che una volta tornata alla base queste spazzole vengono pulite con acqua a 60 gradi che è già molto interessante vengono quindi quasi anche igienizzate ma l'altro lato positivo è che un getto d'aria calda le va anche ad asciugare perché sappiamo benissimo che tutti questi prodotti che utilizzano l'acqua spesso e volentieri proprio creano quel cattivo odore di umido che insomma è insopportabile in questo caso non si verifica perché queste spazzole saranno asciuttissime e pronte sia per stare lì ferme per il prossimo lavaggio oppure continuare il lavaggio come era stato impostato noi non abbiamo tappeti in casa ma come sapete sotto i tappeti si possono nascondere tante cose quindi questo robot può essere proprio il nostro partner in crime per le pulizie vabbè scherzi a parte la cosa buona insomma di questo robot è che ha la capacità di passare sopra i tappeti attualmente anche di un certo spessore e riesce a lavorare tranquillamente anche sui tappeti più alti proprio nella pulizia di peli, capelli insomma tutte quelle cose che si annidano proprio in questo tipo di prodotti la cosa buona è che durante la fase comunque di mappatura che abbiamo visto all'inizio riconoscerà i tappeti e noi stessi potremmo dire al robot se passare sopra ad essi oppure no magari sono troppo delicati vogliamo lavarli in altre situazioni e non utilizzare il robot oppure semplicemente pensiamo riteniamo che siano soltanto un fastidio e possiamo tranquillamente deselezionare dalla mappa generale li vedrà come ostacolo fisso e permanente inoltre rispetto al precedente è molto molto più delicato soprattutto sui pavimenti in legno non andrà a rovinare i pavimenti graffiandoli magari passando da una doga all'altra ma semplicemente seguirà le fughe così da evitare ogni problema cosa veramente interessante è un prodotto smart come abbiamo detto quindi utilizza anche gli assistenti vocali possiamo comandare questo robot tranquillamente tramite Siri Alexa Google Assistant senza problemi beh come si suol dire noi siamo molto soddisfatti di questo prodotto perché ci aiuta a tenere pulita la casa visto ripetiamo che noi abbiamo non uno ma ben due animaletti che soprattutto si impiegnero molto a sporcarcela visto che abbiamo anche un bellissimo giardino a disposizione soprattutto ci aiuta anche ad avere più tempo per noi stessi proprio perché non siamo noi a dover fare effettivamente la pulizia ma appunto come ha detto Gheela finora abbiamo letteralmente uno schiavo a cui commissionare il tutto la manutenzione poi è facilissima perché poi come abbiamo detto basta semplicemente riempire il serbatoio e svuotarlo all'occorrenza tra l'altro non dobbiamo toccare niente quindi anche per chi è allergico alla polvere questa è un'ottima cosa detto questo se siete alla ricerca di un prodotto di un robot aspirapolvere che lava aspira questo Curevo Pro si rivela veramente un prodotto eccezionale quindi se volete togliervi dalle scatole letteralmente tutte quelle che sono le pulizie classiche come aspirapolvere e passare il mocio guardate il link qui sotto in descrizione perché vi abbiamo lasciato tutto ciò che vi serve per poter acquistare questo bellissimo robot per poter acquistare